A Livorno stiamo cercando di riorganizzare i servizi di assistenza sociale a favore dei cittadini in difficoltà economica. Nei mesi scorsi abbiamo presentato un progetto per potenziare gli uffici del sociale in maniera da dare sempre più rapidi ed efficienti risposte ai cittadini. Proprio ieri è giunta la positiva notizia per il quale questo progetto è stato finanziato dall'Unione Europea con oltre 600.000 euro per tre anni. Questo ci consentirà di poter assumere quattro professionisti, di svolgere corsi di aggiornamento e di formazione per il personale interno e di poter così gestire al meglio la misura del sostegno all'inclusione attiva. Di che cosa si tratta? È una misura governativa che consente a circa 250 libornesi in difficoltà di ottenere un contributo mensile che va da un minimo di 80 ad un massimo di 400 euro mensili. Si tratta di un aiuto concreto che va appunto ad aggiungersi al nostro reddito di cittadinanza che per l'intero anno in corso coinvolgerà ben oltre 500 utenti. In questo modo nella nostra città saremo in grado di poter dare sempre più risposte ad una platea più ampia di cittadini.